benedore non è che non sto non e? non benedore dai come il no beh ah attenzione dentro ciutte ciutte papiro ciutte ok 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 sta fermo ogni bel gioco deve durare poco ok dai che è caldo papà 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 difenditi a il 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 la ora l'ho la la l la o caldo vecchia non è in bagno per te che stupido